Ciao, benvenuti cari amici Sagittario. Questo video risponde alla domanda cosa ti sta per accadere ed è rivolto a tutti coloro che hanno o il sole o la luna o l'ascendente in questo segno o che hanno un interesse per una persona che ha il sole la luna e o l'ascendente in questo segno zodiacale. Non ho dato tempi quindi questo video avrà valore dal momento in cui tu lo vedrai. Oltre a ciò volevo dirti che trovi giù nella descrizione di questo video tutti i link per andare a tutti gli altri 11 segni zodiacali. Detto questo andiamo a vedere, utilizzerò il metodo della croce celtica, andiamo a vedere per il segno del Sagittario quali sono le energie intanto un po' generali. Questo è un mazzo di carte che ho creato, io se ti interessa trovi giù nella descrizione del video tutte le info per l'acquisto. Ma andiamo avanti, vediamo per il segno zodiacale del Sagittario cosa ti sta per accadere, vediamo. Ok, qui c'è la paura, qui stiamo temendo qualche cosa, c'è un qualcosa che ci angoscia, che non ci fa stare tranquilli, che ci fa timore, che ci fa paura appunto. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Quali sono le energie, la violenza, queste sono carte veramente forti, sia l'una sia l'altra. Ok, il raccolto, quali sono le energie generali per il Sagittario, per il Sagittario. la scampagnata e lo studio. Ma qui è evidente, c'è qualcosa che ci fa molto molto timore, magari abbiamo fatto un investimento proprio di qualsiasi cosa si stia parlando, è quindi un investimento proprio economico, finanziario, magari un investimento in finanza, di denaro, o magari abbiamo investito in un lavoro, ci siamo dati tanto da fare, qui vedo lo studio, magari ci sarà anche chi di voi ha investito o ha paura di una perdita su dei denari. Quindi magari state subendo veramente una perdita, no? Su un investimento fatto. Investimento, vi ripeto, qui siamo in generale, quindi si può parlare di qualsiasi cosa, magari abbiamo investito tanto tempo e amore in una relazione, ma non sta dando i frutti che volevamo, vorremmo vedere un cambiamento in questa situazione, ok? Che però magari non vediamo, vedo qui nel taglio c'è proprio la carta della pausa. Insomma, una situazione un po' ingarbugliata, sicuramente c'è una situazione che ci dà molta angoscia, molta angoscia. Qui temiamo, c'è proprio la paura di una perdita su un raccolto, ok? Magari siete agricoltori veramente, ci sarà chi di voi veramente sta facendo, ha fatto la raccolta delle olive? Per esempio, ora non lo so davvero, sto scherzando, ma anche no. Quindi bisogna vedere ognuno di voi. Ecco, qui c'è un qualcosa, un investimento, un qualcosa che noi dovremmo raccogliere, che però si sa come stiamo messi. Vediamo cosa dicono i carocchi. Qual è il momento presente per il sagittario? Il 5 di denari con il papa. Qui guarda, si potrebbe trattare veramente, come stavo dicendo, di un discorso economico, vista la carta a denari. Magari abbiamo chiesto consiglio a qualcuno. Sto pensando alla banca se si parla di un investimento monetario, di un investimento monetario vero e proprio, ma anche di un rapporto. Qui ci posso vedere anche un rapporto d'amore e di amanti, a dire il vero, che ci potrebbe dare un po' di pensiero, perché qui, insomma, non vi vedo tranquilli. Quali sono gli ostacoli per questo segno zodiacale? Che cosa dovranno superare i sagittario? Ok, l'asso di coppe, l'asso di coppe e il 6 di coppe. Ma qui il sagittario potrebbe essere anche alle prese, con il passato, con dei ricordi, con una situazione vecchia che potrebbe essersi ripresentata o si ripresenterà. Ok? Ma anche qualcosa di nuovo, mi dicono le carte. Quindi magari è proprio qui lo sbattimento, il dibattimento del sagittario, fra il vecchio e il nuovo, il nuovo e il vecchio. Quindi guardare indietro, guardare avanti. Quindi magari anche davanti a questo sarà messo questo segno zodiacale. Qui si parla molto di una, secondo me, dell'amore, eh? Di una storia proprio affettiva, da quello che capisco, da quello che percepisco di queste carte. Forse proprio il discorso che vi stavo dicendo. Qui ci può essere stato anche un rapporto di amanti con qualcuno, ok? Magari che è stato chiuso. Insomma, qui le carte fanno vedere questo timore della perdita. Qui si ha paura di perdere un qualcosa o un qualcuno su cui si è investito molto, che sia tempo o denaro o amore. Andiamo a vedere qual è la meta del sagittario, qual è l'obiettivo di questo segno zodiacale. Vediamo a cosa funta. Ne sono cadute due. Qui c'è il nove di bastoni e il quattro di coppe con il re di spade del taglio. Ma qui fanno vedere sicuramente ci può essere chi di voi sta investendo nella sua, nella propria famiglia. Quindi qui ci potrebbe essere un discorso anche di questo tipo. Un matrimonio è entrato in crisi, un rapporto è entrato in crisi, sul quale si vuole, si vuole o si è investito appunto, come stavo dicendo, per cambiarlo, no? Per migliorarlo, per cambiarlo in meglio, in positivo. Ma qui c'è la paura di perdere qualcosa e anche a livello proprio economico. Vediamo cosa c'è alla base di tutto questo. Poi vedo con i tarocchi piccolini cosa mi aggiungono. Vediamo cosa c'è alla base di questa situazione. Da cosa scaturisce tutto questo. Perché vedi la luna. Quindi qui ci può essere stato o un tradimento, un'aspettativa anche se vuoi tradita, un'illusione. Come se, come ti posso dire, vedi il pensiero, come se ci sentissimo quanto meno traditi o lo fossimo state veramente? Andiamo a vedere con i tarocchi piccoli perché voglio capire. Vediamo questo obiettivo, 9 di bastoni, 4 di coppe. Che cosa mi vuol dire in questo contesto? Cosa significa 9 di bastoni, 4 di coppe per il sagittario? Guarda, il 10 di denari di nuovo e il 3 di spade del taglio. Ma qui c'è una perdita proprio in denaro. Magari forse proprio per spese, per un familiare o per la nostra casa. Ok? Quindi o per trovarla la casa o per ristrutturarla. Magari anche si può trattare di un'eredità. Insomma, qui c'è del denaro investito, del denaro da qualche parte che noi abbiamo paura di perdere. Quindi qui potrebbe anche essere che stiamo portando avanti una situazione proprio per questa paura della perdita. Come dire, lo vorrei mandare all'ortiche ma non posso, se no poi dove vado, cosa faccio? Qualcosa di sto tipo. Ovviamente poi traduscete quello che io vi dico alla vostra situazione personale. Ve lo dico sempre. Vediamo che cos'è questa luna che è alla base di tutto. Vediamo che cosa significa. cosa è questa luna? Ecco. Il 3 di bastoni capovolto e l'8 di spade. Quindi qui c'è stato un qualcosa o delle male parole o qualcuno, una situazione, un qualcuno che è sparito. Quindi magari c'è già stata una perdita in denaro in passato e si ha paura di rifare lo stesso errore. Mi potrebbero parlare anche di questo, queste carte. Ok? Di ripetere un errore del passato in questo senso. Andiamo a vedere. Ci può essere qualcuno che semplicemente non si è più fatto sentire. Guarda. Il re di spade, l'asso di coppe, del taglio. Quindi qui esattamente ci può essere stato letteralmente una persona o più di una persona e per carità che semplicemente si è dileguata nel niente, nel nulla. Non abbiamo più né visto né sentito e la cosa ci crea un attimino così. Andiamo a vedere qual è il passato recente del sagittario. la regina di coppe. È il matto. Quindi qui c'è un qualcosa che comunque sia ha stupito, ha meravigliato, ha preso alla sprovvista questa regina di coppe. Qui arrivano delle novità a questa donna. Se tu sei donna ma anche se tu sei uomo naturalmente. Vediamo che cos'è questa regina di coppe. Quindi qui c'è una donna comunque sia che è molto cara, molto... Guarda. La regina di bastoni e la temperanza. Quindi qui io si vedo in ripresa letteralmente. Proprio come se dopo un grande dolore, un qualcosa di molto forte che potrebbe essere accaduto nella sua vita che ti ha creato una forte angoscia. Io si vedo comunque già dal passato recente, qui fanno vedere una persona, uomo o donna, che sia in ripresa. Ma qui ci posso vedere anche una donna che ti sta sostenendo, che ti sta aiutando. Può essere la madre, può essere una cara amica, una sorella, insomma una persona cara, molto ben disposta nei tuoi confronti. Quindi molto cara, molto... Sulla quale ti puoi, ti sei potuta appoggiare in qualche modo. Sinceramente. Una persona, insomma, positiva per te, per la tua vita. Ma andiamo a vedere, visto un po' il passato, vediamo qual è il prossimo futuro per il sagittario. Cosa sta per accadere al sagittario? Cosa sta per accadere al segno zodiacale del sagittario? Qual è il prossimo futuro per il sagittario? Il 5 di bastoni e nel taglio c'era l'8 di coppe. Ma io ti vedo comunque sia combattere. Qui fanno vedere una situazione, vediamo un po' i tarocchini. Perché c'è il 5 di bastoni nel prossimo futuro del sagittario? Io ti vedo comunque sia combattere. Qui c'è la voglia proprio di andare avanti. Quindi, vedi, il 6 di bastoni, il 6 di bastoni, sempre la paura, eh? Sempre la paura, cioè comunque il timore. L'asso di coppe, il 4 di spade e il 6 di coppe nel taglio. Allora, qui sicuramente, guarda, se avete problemi, se avete avuto un problema anche di natura proprio lavorativa, lavorativa, qui sicuramente c'è il recupero. Qui c'è il recupero, c'è un qualcosa di nuovo che entra e arriva dopo un momento anche di pausa, di fermo se vuoi. Quindi magari siete state fermi per un qualche cosa, avete dovuto rimandare qualcosa. Magari proprio grazie anche a questa donna molto cara, molto carina, molto disponibile nei tuoi confronti. Qui c'è la ripresa, qui c'è una novità che arriva a movimentare un pochino la situazione. Vediamo quale sarà l'approccio, l'atteggiamento del sagittario verso questa situazione. Quale sarà l'atteggiamento del sagittario? Ok, la ruota e la morte. Guarda, del taglio e la ruota. Chiaro, qui si va verso qualcosa di nuovo, un grande cambiamento. Comunque, proprio il tuo atteggiamento è quello proprio di cambiamento. Ma anche quello che vedo del sagittario, proprio il suo atteggiamento anche positivo, no? Che è classico, insomma, del segno del sagittario. Quindi lasciare un pochino di più le cose che vadano per il suo verso. Un atteggiamento proprio di cambiamento. Quindi magari proprio voi cambiate, no? Nel vostro atteggiamento verso le persone, verso quello che vi circonda. Ma anche prendere un pochino più le cose, come dire, vabbè, vediamo il destino cosa mi porta, no? Un pochino più fatalisti, non so com'è meglio dire. Vediamo i fattori esterni. Quali saranno i fattori esterni per il sagittario? Qui, insomma, c'è un qualcosa che è in cambiamento. Io vedo una novità che entra e arriva, guarda. E infatti qui mi danno il re di spade e il giudizio. Qui c'è una situazione che noi credevamo chiusa definitivamente, che si riapre, che cambia, ma che va anche a migliorare, eh? Che cambia in meglio, voglio dire io, la ruota, il giudizio. Insomma, queste sono carte, ma l'avevamo già belle che visto, anche dagli oracoli, se vuoi. Qui c'è un cambiamento positivo, ripeto, che si tratti di lavoro, che si tratti d'amore. C'è proprio un riprendere un qualcosa che noi credevamo, che noi credevamo morto, fermo. Insomma, qui i fattori esterni sono chiari. Anche i fattori esterni parlano qui di una persona che potrebbe senz'altro rifarsi viva con noi, eh? E riaprire, riaprire un discorso, qualcosa che noi proprio non ce l'aspettavamo. Cosa c'è nel cuore del Sagittario? Quali sono i suoi sentimenti, le sue emozioni, le sue speranze? Sagittario. Cosa c'è nel cuore del Sagittario? Qui se avete una separazione, lo dico solo, guarda, la regina di spade. Qui c'è un re di spade e qua c'è una regina di spade. Io qui posso vedere per alcuni di voi anche la separazione, eh? Perché qui mi hanno parlato di casa, mi parlano di matrimonio, mi parlano di un combattimento, se vuoi, anche per motivi di denaro. Non sarà per tutti, naturalmente, ma per chi di voi già è lì, lì, insomma, questo è. Qui ci può essere anche, siccome vedo proprio qui a croce due donne con questo uomo, come vi ho detto anche all'inizio, se non erro, qui si può trattare anche di un discorso a tre. Qui ci può essere anche un triangolo. Non voglio entrare nelle specificità troppo, però qui vedo due donne e un uomo, quindi, vedete, fate voi un pochino i calcoli. Capito cosa voglio dire? Comunque qui c'è un Sagittario che potrebbe avere una donna, letteralmente, proprio nel cuore, no? Pensare molto ad una donna che non è, secondo me, la compagna. Comunque, se siete donna, se siete donna, nel senso, qui ci può essere proprio il vostro atteggiamento, che è quello di una persona disillusa dalla vita o disillusa da questa situazione. Quindi è proprio un atteggiamento, vedi la paura, un atteggiamento freddo, più, vedi, con la spada in mano, come dire, cosa vuoi da me, pronta a colpire, no? Proprio per difesa, anche se vuoi, quindi un atteggiamento, insomma, un po' sì. Quale sarà il risultato per questo segno zodiacale? Poi vediamo i segni zodiacali proprio, eh. Quale sarà l'atteggiamento del Sagittario? Scusami, quale sarà il risultato finale per il segno del Sagittario? Quale sarà il risultato finale per il Sagittario? Qui mi è caduto tre carte che per me sono troppe. Allora, nel taglio c'è la torre, c'è la torre, qui c'è il 6 di coppe, il 10 di spade e il 9 di coppe. Ma qui letteralmente fanno vedere, senz'altro, il nostro passato che viene definitivamente chiuso. Qui c'è un qualcosa che viene chiuso, senz'altro. Chiuso, fine, stop. Questo 10 di spade è chiaro, abbiamo visto prima la morte, qui c'è il re e la regina di spade, qui ho la novità e il combattimento. Quindi io qui, e anche abbastanza, anche abbastanza in maniera improvvisa. Io credo che qui qualche Sagittario potrebbe venire sorpreso in un certo qual modo, perché la torre, insomma, la torre parla chiaro. Qui c'è un qualcosa, un fulmine a ciel sereno, qualcosa che proprio non ci aspettiamo, che non avevamo messo in preventivo, che però accadrà. Ok? Visto che questo abbiamo chiesto, cosa ti sta per accadere? È un qualcosa che viene comunque a sconquassare. Però non vi, non vi, come ti posso dire, non vi demoralizzate, perché qui vedo comunque delle carte che mi richiamano comunque sia il cambiamento in positivo. Cioè il Sagittario, ma figurati, sicuramente ne esce, anche perché qui c'è un bellissimo 5 di bastoni, quindi c'è quell'atteggiamento combattivo, quell'atteggiamento insieme alla ruota, di combattimento, di portare avanti comunque sia un qualcosa e cercare di cambiarlo per il meglio. Io vedo anche questo. Vedo anche, come vi stavo dicendo, un atteggiamento, non un atteggiamento vostro, una situazione, diciamo così, di improvviso, un qualcosa, una chiusura, un qualcosa che viene chiusa in modo imprevisto, cioè che non vi aspettavate. Quindi non credo che sia una cosa che dipenda o che dipenderà da voi. Fatemi sapere. Comunque sia, qui le carte, è questo che dovete arrivare a fare. Dovete guardare sicuramente verso il nuovo. Questo mi dicono le carte. Vediamo un pochino con quali segni zodiacali avrà più a che fare il sagittario. Con quali segni zodiacali avrà più a che fare il sagittario? Con quali segni zodiacali avrà più a che fare il sagittario? Vediamo quali sono i segni zodiacali. Per il sagittario, allora andiamo a vedere, ho visto subito l'ariete, il toro, lo scorpione, l'acquario, il leone l'ho detto, no ve lo dico adesso, il leone. Ok, con quali segni zodiacali avrà a che fare il sagittario, con quali segni zodiacali avrà a che fare il sagittario. Lo scorpione viene confermato, era già uscito, vediamo, l'acquario confermato anch'esso, segno dei pesci, l'ariete che viene confermato, vediamo se ne esce un altro, il segno del cancro. Questi sono i segni che più mi escono evidenti, l'acquario, lo scorpione, l'ariete sicuramente, poi c'è il leone, il toro, il pesci e il cancro. Quindi fammi sapere un pochino che cosa ti richiamano queste carte, a cosa ti fanno pensare e cosa poi vivrai, fammelo sapere giù nei commenti. Ok, un bacione e al prossimo video, ciao! Eccoci qua, vi lascio ai miei... Ehi, ci vediamo! Ehi, ci vediamo! Iniziamo! Ehi, ci vediamo!